Ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di scazza moderato come va a video, cercherò di essere molto rapido perché fra 15 minuti dovrebbero venire a prendermi per andare in ufficio Allora, oggi vi parlo di due donne, ok? E faremo un gioco Le due donne sono molto diverse perché vengono da paesi diversi, una è italiana, una è straniera Una fa lo sport, è una sportiva di professione, l'altra è una politica di professione Una è giovane, l'altra, diciamo, diversamente giovane, ok? Però hanno una cosa in comune, sono tutte e due bionde, quindi il gioco di oggi si chiama Scegliela bionda Io vi racconterò due storie legate a queste donne e poi voi dovete decidere quale delle due, secondo voi, fa le scelte giuste Come vedete c'è già, io qua ho già le foto Questa qui sulla sinistra è la foto di qualche anno fa della surfista Bethany Hamilton Che quando aveva 13 anni, mentre stava surfando, è stata attaccata da uno squalo Che purtroppo le ha mangiato il braccio La ragazza però, tostissima come si è dimostrata essere Ha continuato nel suo sport, appena si è ripresa dall'infortunio Qui fra l'altro si vede anche proprio la tavola da surf che è stata sgagnata dallo squalo E lei però ha continuato a farla surfista Ha continuato, si è data da fare Fra l'altro il surf è uno sport di equilibrio e con un braccio in meno Immagino insomma sia abbastanza più difficile riuscire a stare in piedi sulla tavola in mezzo alle onde Ma lei non si è data per vinta Continua a fare il suo sport O meglio, ha continuato fino a ora Perché adesso ha fatto una scelta molto importante Ed è qui che volevamo arrivare È questa la notizia Ve la faccio vedere, la potete trovare sulla maggior parte dei giornali Cercando Bethany Hamilton La leggendaria Bethany Hamilton Che qui si vede fra l'altro mentre sta surfando senza purtroppo il braccio Non competterà se ai transgender sarà permesso di competere come donne Bethany Hamilton Sapendo che la Lega Nazionale o Internazionale di Surf Ha deciso di accettare i trans nelle gare pur che prendano dei riduttori di ormoni e delle robe del genere Lei ha detto io tutta la vita che faccio questo sport Ma non parteciperò a gare in cui ci sono dei trans Se voi accettate i trans nelle gare per me quella gara non è valida Io ho tutta la stima del mondo per ogni essere umano Amo tutti Non ho nessun tipo di discriminazione Ma loro, se volete farli partecipare a delle gare professionali Fate una Lega solo per loro Non partecipano con noi E io, ovviamente, stimo molto chi ha il coraggio di fare delle scelte Che vanno contro corrente, che non sai chi sta in piedi Invece di mettersi in ginocchio come fanno tanti altri Sia nello sport che in altri sensi È ovvio Si sa benissimo che c'è una differenza abissale fra uomo e donna E farli competere insieme è una roba da delinquenti, pazzi, furiosi Ma purtroppo questo è il mondo in cui viviamo In cui bisogna addirittura farvi gli articoli su della gente che dice delle cose ovvie E questa è la prima bionda Adesso passiamo alla seconda bionda che invece la conoscete molto bene Si chiama Alessandra Mussolini La quale potete trovare la notizia su qualsiasi giornale Adesso ho preso Open, ma la trovate anche su Repubblica Soprattutto sui giornali Tutti i giornali Ne ha parlato tutti Praticamente la Mussolini, essendo un europarlamentare Adesso aveva fatto una richiesta del passaporto europeo specifico Cioè un passaporto fatto apposta per gli europarlamentari Che serve, diciamo, a facilitare i loro viaggi di lavoro Quando magari vanno in missione, eccetera Senza dover chiedere il visto tramite, diciamo, usando il loro passaporto italiano, ok? Bene, cosa succede? Succede che lei, per prendere questo passaporto Che evidentemente doveva andare in missione diplomatica da qualche parte Le danno un modulo da compilare E nel modulo da compilare Attenzione, attenzione, sedetevi Perché non vorrei che veniste sconvolti da questa notizia Notizia gravissima, mio Dio In che mondo viviamo? Nel modulo da compilare C'era solamente, nella casella dove devi specificare la sessualità C'era solo maschio o femmina E la Mussolini è tornata all'ufficio preposto Non so dove sia, a Bruxelles, da qualche parte E ha fatto un gran casino Gli ha dato indietro il documento Io? Un documento del genere Dove c'è scritto solo che puoi essere maschio o donna Non lo accetto Perché qui Non è menzionato uno che potrebbe essere non binario Per esempio Come la mettiamo con i non binari? Cioè Io Mi chiedo una cosa Molto semplice Perché la Mussolini Non è stata buttata fuori da qualsiasi partito di destra Credo che lei sia in Forza Italia O qualsiasi sia Ancora l'anno scorso Quando appoggiava la legge Zan Perché era da buttare fuori già in quel momento Quindi la Mussolini L'anno scorso appoggiava la legge Zan Anzi in realtà era già il 2021 Quindi un anno e mezzo fa Appoggiava la legge Zan E adesso Va a fare la passerella in Europa Per farsi vedere quanto è progressista Regalatele la tessera del partito democratico O del Movimento 5 Stelle O di Sinistra Italiana Ci sono tanti partiti Che sono prontissimi a prenderti Ah già Forse 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 non è così facile Entrare in quei partiti Dopo che hai passato tutta la vita Facendo carriera politica Solamente sul tuo cognome Comunque Oggi cerco di essere breve Queste sono le due storie Da una parte abbiamo una sportiva Che sta in piedi Sulle onde Sul suo surf E dice Io a certe cose Non mi piego Quindi alle vostre garette Fasulle e falsate Non partecipo Dall'altra parte Abbiamo la Mussolini Che va negli uffici europei A dire Dovete rifare I formulari Perché io così Non li compilo Perché non c'è scritto Non binario Scegliete la bionda Spero che questo video Vi abbia dato qualche informazione utile Qualche spunto di riflessione Come sempre Vi invito a condividerlo Per far girare Qualche informazione utile Ci vediamo al prossimo video State informati Ciao Ciao